Eh si ragazzi oggi sto parlando di fare le suspense quelle belle Siamo aperti nella porta misteriosa della stanza nascosta del palazzo di Soken Eccoci qui Eccolo qui ragazzi il nostro primissimo super boss Il drago demoniaco di livello 60 con 8 milioni mi sembra di ricordare 8 milioni 8 milioni 930 mila punti vita ragazzi Come ben vedrete la barra vita è leggermente diversa da quelle dei soliti boss Perché come vi ho detto ragazzi è un super boss Come ho già detto non scorsi bisogna ragazzi Super boss non ha particolarità di essere appunto come dei boss normali Ma hanno i punti vita di un boss normale moltiplicati per 10 ad esempio E per l'appunto siccome sono talmente tanti punti vita 8 milioni punti vita per l'appunto Che non basta una barra vita per... Non basta una barra vita per riempire e metterceli tutti No hanno potuto fare più barra vita per contenere tutte quelle donne quantità dei punti vita Quindi quei puntini rancioni che vedete sotto la barra vita che appare scompare Sono tutte barra vita che aspettano solo di essere... Di essere... Di essere... Cancellate Di essere cancellate Di essere eliminate ragazzi Allora tra l'altro questo boss Siccome per l'appunto è un super boss C'è anche una logica che non è... Solita dei boss Come vedete nella mappa in alto a destra È ancora disponibile l'uscita Perché ragazzi Possiamo decidere durante il combattimento Di uscire per sistemarci E rientrare A continuare ad affrontare il boss Senza temere che questi si rigeneri la vita Senza che questi recuperi tutta la vita Quindi sì Come vedete Quindi sì Possiamo Quindi sì Possiamo Eh... Combattere questo boss In più round Questo super boss In più round Perciò ragazzi Eh... Quindi questo sarà un combattimento Piuttosto lungo Che vi darò in più episodi Perché per l'appunto È abbastanza forte Questo mostro Dubito che per l'appunto Eh... Che si fa fallo fuori In due altri episodi Penso che ci caricherò Almeno Quattro episodi Per farlo fuori Anche che non ha contato Le buggy vita che c'hanno E hanno Le ho tolte due Una Due Tre Quattro Cinque Se... Aspetta Contato Quelle che ho fatto fuori Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette O Una Due Tre Quattro Cinque Sette Sette Nove Dieci Undici Dici Tredici Quattordici Quindici Sedici Sette Ciotto Dici Nove Venti 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 Quattro Venti Cinque Venti Sette Venti Sette Venti 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 Allora 68 bar contatto io, sicuramente avrò contatto male perché i puntini sono un pochino piccolini, quindi magari voi potrete tranquillamente contarli con il dito sul telefono, sul tablet, sul computer, se state guardando i video a tablet, computer o telefono. Allora sono intorno alle 70 bar di vita, ne ho già fatte fuori 3 da quanto mi sembra di contare, stiamo andando abbastanza in fretta perché proprio ci sono 70 bar di vita, ma comunque qual è la storia di questo diago demoniaco ragazzi? Perché questo diago ha una storia detta chiaramente, da quanto mi ricordo, tra l'altro notare che è veramente figo, guardate che è di elemento buio ma come vedete c'ha tutte le, oddio santo ha fatto fuori Fran, come vedete c'ha le ali che sono praticamente dei cerchi di luce, stessa cosa per la cosa. E questo anellone ragazzi di luce invece che c'è sulla testa, invece costa più che altro come un peso, un fardello che gli impedisce di volare ed è per questo che è rinchiuso qui dietro perché non può più volare via. Da quanto mi ricordo la sua storia è che anche lui è una creazione degli dei, non è un esper, non è un esper ma è un drago che è stato creato dagli dei, non aveva nessun compito divino ecco perché non è un esper, non è un alterazione. E' stato creato dagli dei dei, solamente che non mi ricordo perché sicuramente per, o perché era impazzito, o perché aveva cominciato ad aver, aveva voluto desiderato il potere di ogni altra cosa. Comunque sia, i dei dei dei, se volete ricordare, l'hanno punito, gli mettendo in questo fardello, questo flagello, questo sigillo divino che gli impedisce di volare via, che appunto come vedete ce l'ha sul corlo praticamente, quindi... Uh, sono cadute delle pietre qua. Allora, sta cominciando a... Quando vedo che la squadra è un po' alle strette, esco, mi risistemo e ritorno a combattere. Oppure quando arrivo a dieci minuti, di combattimento esco e rientro e divido questo episodio. E ogni round sarà... Le chiameremo sessioni qua, anche quei sessioni come quelle di Cooftout in Monster Hunter. Oddio, giudizio. E questo, questo attacco speciale... Qua sapete quale è bello? È che il corlo del drago demoniaco l'ho sempre scambiato per la sua faccia. E la faccia è quella dietro, l'anello, non quello davanti. Uh, e infligge stop, ecco, verco, ecco, e infligge stop e da quanto verco, vedete, ho fatto bene a mettere... Ho fatto bene a mettere le maschere bianche, ecco perché mi diceva di mettere le maschere bianche. Perché? Ecco perché mi diceva di mettere le maschere bianche. Perché stop, no, perché giudizio, è un attacco che fa elemento sacro e non... E quindi se tu c'hai le maschere bianche addosso non ti fa niente, cioè, ti dà i putti da vita. Però a quanto fa l'abbè capito che puoi fliggere stop. E anche qui forse è mai il sopravvultore, il postaggio che punta, spionotola dagli altri, ti metti i fliggi stop a tutti. Che poi già, ho sempre notato questa cosa strada, eh. Nel drago demoniaco non sembra tanto neanche un drago vero, vero, real, cioè un vero, non sembra affatto di carne, di pelle. Sembra un robot, sembra che le braccia, se guardate le braccia, sembra che sia un robot, sembra le parti di un robot. O è un'armatura, quella che c'è addosso, o è la pelle per appunto che è fatta così, perché appunto il drago divino ha creato dei dei, qua che non sia strano. Oppure è una sorta di un cyborg, una cosa strana, non penso. Penso che sia la seconda opzione, quindi, che per l'appunto il drago creato dai dei, perché c'è lo strano. E quindi la pelle è fatta così di suo. Stavo dicendo, le chiamerò prima sessione, seconda sessione, o prima sedio, o primo round, penso che lo chiamerò round, mi pare che lo chiami round il gioco. Ogni dieci minuti, ogni dieci minuti, ogni dieci minuti, saranno un round. Non riuscirò, non faccio il tempo a fare fuori oggi, ragazzi. Penso che, dopo questi dieci, quando stavano per scattare dieci minuti, quando sono scattati, esco dall'aria, mi risistemo. Mi risistemo, poi quando mi sono risistemata, entro, fermo il video, faccio ripartire, ho detto che stiamo assaltando il drago, oppure fermo il video, mentre usciamo, mi risistemo, poi entro che stiamo assaltando il drago. E dopo quel secondo sedio, concluderò quegli episodi, e faremo gli scaldi, farò fuori entro la prossima volta, tanto che adesso io ho fatto fuori quante barra di vita? Sei? Non le ho contate, ma comunque più ne togliamo, meglio è. Allora, quando vediamo, faccio fuori quest'ultima, questa barra qui che c'è adesso, e poi me la do il gamba fuori. Comunque, come vedete, adesso non me la sto cavando tanto. Sì, è un po' difficile, più si va avanti ovviamente diventerà sempre più difficile, perché chiaramente vuoi che il boss non ti attacchi potenti verso la fine. Ma comunque vedete che sono tipo di 20 livelli in più, appunto non me la sto cavando tanto male. Ok, sono io, ok, quindi ragazzi, usciamo. Proprio adesso che voglio darmi la fuga, comincia a farmi fuori tutti quanti. Ok, usciamo. Vediamo e vediamo di sistemarci ragazzi, poi ritorniamo subito all'attacco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.